Bene, signore e signori, benvenuti al post-Gimicana Austinese 2015. Siete stati tantissimi a seguirci alla premiazione. Abbiamo già ringraziato tutto il pubblico, abbiamo ringraziato laudamente gli sponsor che ci hanno assistito, accompagnato in questo che è un avvenimento voluto fortemente dal padrone di casa, Giuseppe Morelli, il nostro presidente. Rocco Argentino, siamo qui con le ultime considerazioni, signori. Siete stati davvero impeccabili, state inviando foto, immagini, video. Non sappiamo davvero come rispondere a tutti, ma presto garantiamo che saremo da voi con tutte le informazioni che ci avete chiesto. E' cresciuto a dismisura il consenso per questa che è stata l'unica Gymcana finora del campionato Gymcana Automobilistico 2015. Abbiamo avuto una capienza di persone, pensate un po' di 8.000 persone che seguivano un evento su un social network, un qualcosa di impressionante. Non siamo qui a dare false gare o un qualcosa di fatto con velocità. Siamo qui per dare sempre uno spettacolo puro come da anni il campionato Gymcana Automobilistiche sa dare. Ecco perché ci è piaciuto e interessato il vostro consenso ieri. Molto presto vedrete sul nostro sito sempre il campionato Gymcana Automobilistiche 2015 tutti i video fatti da voi, tutte le immagini, tutte le considerazioni. Ci sono in cantiere molti progetti, tantissime cose che io con tutti i piloti e soprattutto il nostro direttore di sito Italo Argentiero vogliamo dedicare a voi perché è sempre uno spazio aperto, perché presto ricominceremo con un vero e proprio campionato perché presto saremo sempre da voi per darvi il meglio. Vi ricordiamo quindi ancora una volta che siamo presenti sia su Facebook sia su YouTube e nulla, vi ringraziamo ancora una volta tutti voi, siete stati davvero splendidi. Grazie.